il primo paragrafo l'abbiamo letto. Per vedere se sia l'ira conforme alla nostra natura, basterà osservare attentamente l'uomo. In condizioni normali, egli è senza dubbio il più mite fra tutti gli esseri. L'ira invece è la cosa più crudele che ci sia. L'uomo è portato ad amare più di qualunque altro essere. L'ira è l'esatto contrario dell'amore. L'uomo soccorre i suoi simili, l'ira distrugge tutto. L'uomo unisce, l'ira divide. L'uomo vuole essere utile agli altri, l'ira vuole nuocere. L'uomo è portato a prestare aiuto anche a chi non conosce, l'ira si getta nel baratro pur di travolgervi gli altri. Chi dunque si allontana di più dalla natura se non colui che scarica su di lei questo feroce e dannosissimo vizio come se fosse la più bella e la più perfetta delle sue creazioni. La natura non non poteva inculcare nel pacifico cuore dell'uomo una tale passione, avida di vendetta e di castigo. La vita umana è fondata sul bene e sulla concordia, stretta in un vincolo di alleanza e di mutuo soccorso, non già per paura ma in forza di un vicendevole amore. Vedete tra l'altro un paio di cose qui che sono estremamente... una è assolutamente molto moderna. Allora, due cose dicevo. Una è questa. Qui in fondo quando parla del fatto che la legge a cui praticamente è la legge a cui è uniformato il cuore dell'uomo è la legge dell'armonia tra le persone. Appunto là dove dice che questa legge che è scolpita nel cuore dell'uomo non è prodotta... questa invece è la tesi e la tesi un po' alla Rousseau e la tesi un po' anche all'evoluzionismo, alla Darwin, no? Non è prodotta dalla paura. La paura, per esempio, di essere soli e quindi bisogna creare una comunità. La paura per la quale se non ho un sentimento, se non ti mostro un sentimento d'amore, una disponibilità, l'insegna dell'amorevolezza, puoi diventare mio nemico. Quindi l'idea secondo la quale l'amore non è il risultato, l'esito di un mio, mettiamola così, un mio tornaconto personale. Non è un prodotto culturale, non è un prodotto culturale, prodotto generato da un certo... da una certa mia preoccupazione, da una certa nostra preoccupazione, ma è qualcosa che invece fa parte naturalmente, appunto naturalmente, non culturalmente, non storicamente, naturalmente dell'apparato umano. Fa parte naturalmente del cuore. Allora vuole dire che invece l'ira, l'oggetto di questo trattato, invece l'ira sì. Invece l'ira sì, dato che è l'amore il luogo naturale del cuore, tutto ciò che contrasta all'amore, rispetto all'amore per esempio, soprattutto l'ira, questa invece sì è un prodotto culturale. È un prodotto culturale, il secondo aspetto appunto che volevo sottolineare di questo brano. Dimensione questa è molto moderna, molto moderna che incontriamo spesso in tante tesi di... in ambito filosofico, ma anche in ambito psicologico, secondo la quale, secondo le quali tesi appunto è il vivere, nascere all'interno di un certo tipo di appunto di società, di cultura, di realtà, di istituzioni, potrebbe dire un po' la... potrebbe dire un po' Foucault, che produce... produce certe reattività, certe paure, certe... certe condizioni di vita, per esempio appunto l'ira, per esempio la rabbia, la rabbia, eccetera. E vediamo appunto in questo brano come natura umana e natura... e natura... e natura... e natura... e natura... con la N maiuscola appunto, quel logos a cui facevo riferimento prima, siano strettamente connessi. A proposito sempre di questa cosa, del rapporto tra amore e natura umana, anche queste poche righe, sempre del de'ira, l'ira, anche a non prenderne in considerazione gli effetti immediati, come i danni, le insidie, l'ansia continua per le liti e gli scontri fra le due parti, nel momento stesso in cui cerca di punire, resta punita, perché rinnega la natura umana. Questa infatti invita all'amore, quella all'odio. L'una impone che si faccia del bene, l'altra del male. Ecco appunto, il contrario dell'amore rinnega la natura umana, cioè l'amore converge alla natura umana, afferma la natura umana. Quella natura umana potremmo dire originaria rispetto a tutto il resto, rispetto a tutte le aggiunte successive, e questo per tante impostazioni filosofiche di questo tipo, non solamente stoiche, sarà il grande dramma. Cioè il grande dramma consiste proprio in questo, cioè sì, se è vero che vi è una natura originaria all'insegna dell'armonia, all'insegna della bontà, addirittura si dirà, qualcuno dirà anche all'insegna della perfezione, all'insegna della convergenza piena con il divino, con l'identità piena con l'assoluto. Ecco là dove le cose stanno così, il grande dramma in che cosa consiste? Il grande dramma consiste nel fatto che questa natura, nel momento nel quale viene coperta, diciamo così nascosta, da tutte quelle stratificazioni, noi oggi appunto potremmo dire, come dicevo prima, culturali, no? Tutte quelle stratificazioni culturali che sono così sottili, che sono così onnipresenti, che sono così da tanto tanto tempo, no? La storia di tutta una civiltà sedimentata in noi, bene, tutto questo a cosa ci conduce? Conduce il fatto, ci conduce alla considerazione che quella sia la nostra natura vera. Insomma, uno scambio, un confondere la natura, la natura, la seconda natura, la natura aggiunta, con la natura degli abiti, direbbe Aristotele, direbbero i medievali, con la natura originaria. Quella è la nostra natura originaria, quella l'insegna dell'ira, dell'odio e via dicendo. Come vi ricordavo la scorsa volta, per esempio, quando parlavamo, accennavo l'ognosticismo, così, è un passant. Ecco, per esempio, una una sistema, una tradizione o una serie, meglio, una serie di tradizioni filosofiche e spirituali, come quelle che sono presenti nelle scuole ignostiche, vanno molto in questa direzione. La questione, la questione realizzativa, il grande percorso, il nobile percorso spirituale, consiste proprio in questo, nel passare dall'identificazione con la natura acquisita, che credo essere natura, la mia natura vera, alla natura originaria, oramai tanto nascosta, tanto nascosta al mio sguardo e quindi non solamente nascosta al mio sguardo, ma, mettiamola così, al mio ascolto tanto poco parlante. La sua voce è divenuta, il suo tono, il volume della sua verità è oramai così basso, si è fatto così flebile, da non riconoscerlo più, da non riconoscerlo più. Il grande dramma, dicevo, dell'essere umano, secondo queste impostazioni. Ecco, detto questo, ricordiamo comunque che Seneca è uno stoico, lo leggi, lo capisci, te lo ricorda ogni piesso spinto, questo certamente, e quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso naturalmente è stemperato o temperato, dipende dai punti di vista, con un altro tipo di impostazione, secondo il quale, appunto, sì l'amore, ma attenzione, attenzione. Ci sono tante pagine di Seneca, delle opere di Seneca, in cui Seneca fa una dura critica all'amore non temperante, all'amore smodato, come spesso lui lo chiama, all'amore passione, ci siamo già tornati su questo punto, l'amore eccessivo, l'amore eccessivo, molte volte l'esempio classico che fa Seneca, forse ce lo aspettiamo tutti, è l'amore e l'amore tra uomo e donna, l'amore eccessivo, ecco, l'amore non deve essere mai eccessivo se non bisogna, se non è proprio necessario, mettiamola così, se non è proprio necessario una terminazione totale, un'eliminazione totale dell'amore per tanti motivi, anche quelli che abbiamo detto fino adesso, però appunto bisogna fare un gran lavoro di moderazione dell'amore. Soprattutto uno dei tipi di amore, dei modi di vedere l'amore, in cui lui ha parole particolarmente dure o comunque su cui torna più e più volte in diverse opere, è l'amore per la vita. Pensate anche qui a proposito di modernità, quanta antimodernità, quanto oggi come oggi continuamente ci sia un ritornare continuo sulla retorica dell'amore per la vita, quindi è l'amore che mai e poi mai bisogna mettere in dubbio, la vita va tutelata in ogni suo frangente, eccetera, la cosa più nobile che abbiamo. È tipico di un animo, di una mente sana avere appunto un giusto, un appropriato amore per la vita. Ecco questa cosa, questa cosa adesso non solamente con Seneca e non solamente con gli stoici, ecco questa cosa, questa retorica dell'amore per la vita quando vai a guardare gli antichi, ma anche medievali, questa cosa non la trovi mica, non la troviamo affatto, non la troviamo affatto, soprattutto in un'impostazione, scusatemi, come quella stoica. Vi volevo leggere anche qui un altro, un altro, un altro, un altro brano che dice quanto segue, dire anche a non prendere un attimo, ok, questo qui, questi sono brani tratti dalle lettere all'ucilio, questo dove si dice abituati a pensare alla morte. Chi dice questo invita a pensare alla libertà, alla libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire, è al di sopra e in ogni caso al di fuori di ogni umana potenza. Che sono per lui carcere, guardiani, catenacci? Egli ha sempre l'uscita libera. Una sola è la catena che ci avvince, l'amore alla vita. Non dobbiamo reprimerlo, ma attemperarlo, in modo che quando le circostanze lo richiedessero, nulla ci impedisca d'essere pronti a far subito ciò che, prima o poi, bisogna fare. Naturalmente Seneca qua in queste ultime parole pensa anche eventualmente a una decisione, alla decisione estrema, a situazioni esiziali, per esempio la morte. A proposito di morte, vedete qui come è anche questo classico, classico discorso che troviamo in tanta, in tanto pensiero antico, ma soprattutto nell'impostazione stoica. E cioè, dicevo, il rapporto stretto che noi incontriamo in queste poche righe tra morte, libertà, amore, vita. Sono termini, concetti, situazioni così strettamente unite, collegate, che il mutare di poco dell'una va a toccare inevitabilmente, va a mutare inevitabilmente anche tutte le altre. Quanto l'abitare e la morte è libertà, quanto l'esatto contrario è l'assenza della libertà. Quanto l'attaccamento all'amore per la vita non ti permette, non ti permette appunto come dice Seneca qui alla fine, di fare quello che prima o poi bisogna fare. Molte volte io non posso fare, non so fare quello che bisogna fare per il mio eccessivo attaccamento alla vita. E quanto l'attaccamento alla vita, l'amore alla vita, appunto ripeto, posizione assolutamente antimoderna, quanto il mio attaccamento alla vita in realtà in questa ottica in cui ci stiamo muovendo noi adesso, sia l'assenza della libertà. Perché l'attaccamento alla vita mi fa vivere, mi fa condurre una vita all'insegna della paura. Paura di che cosa? Beh, ovviamente, molto banalmente, paura di perderla questa vita, paura che questa vita sia in pericolo. E allora quando già nel mio cuore tutto è perso, allora sì, tutto è possibile, tutto è possibile, a tutto sono possibile, in tutto posso darmi, posso darmi. Tra l'altro qui non viene detto, però altro elemento, altro elemento interessante, e cioè che a volte, questo però è qualcosa che incontriamo soprattutto nel platonismo e nel neoplatonismo, nel neoplatonismo più che nello stoicismo, però altro elemento, dicevo, interessante, il fatto che tanto più io sono in quel pensiero, il pensiero della morte, l'uscita dall'attaccamento alla vita, tanto più non solamente posso fare, so fare, sono in una situazione prima di tutto di libertà e quindi so fare, posso fare quello che eventualmente è da fare. Ma oltre a questo, la questione è anche, è anche gnosiologica, conoscitiva, cioè l'avere pienamente digerito dentro di me il pensiero della morte, l'essere distaccato dall'amore per la vita, mi fa vedere la verità delle cose, mi fa vedere maggiormente la verità delle cose, mi fa essere più aderente alla verità delle cose, quella verità delle cose che invece prima era offuscata da attaccamenti vari, soprattutto l'attaccamento alla vita, è ovvio che l'attaccamento alla vita è inutile dirlo, ma insomma specifichiamolo almeno una volta, l'attaccamento alla vita contiene al suo interno, potremmo dire l'attaccamento alla vita è il grande contenitore che contiene al suo interno tutte le varie forme di attaccamenti, tutte le varie forme di attaccamenti, perché la vita è tutto, è tutto ciò che capita, che mi capita, è tutta la collezione delle mie identificazioni, quindi è ovvio che tanto più io sono attaccato alla vita, amante della vita in questo senso, tanto più io sono amante delle mie identificazioni, attaccato, aderente, identificato, scusate il gioco di parole, identificato alle mie identificazioni ed è ovvio che maggiore è l'attaccamento alle mie identificazioni, maggiore è il mio stato, è il mio stato di schiavitù, è il mio stato di schiavitù.